La scorsa estate sono andata in vacanza a casa dei miei nonni, a Sabaudia. Essi vivono in un ex podere dell'Opera Nazionale Combattenti, in un territorio agricolo, divenuto poi area naturale protetta di interesse internazionale. In questa occasione mi sono fatta a descrivere l'origine di quei luoghi, così diversi dai centri urbani dove abitiamo. Mi hanno raccontato che a partire dal 1934 fu realizzata una grande e ingegnosa opera di bonificazione di un territorio completamente paludoso e impenetrabile. Ciò rese possibile una successiva applicazione agricola e la costruzione di case rurali, con allevamento di bestiame. Oggi, a testimonianza di quello che fu in origine, resta solo una riserva naturale di acquitrini, vegetazione rigogliosa e soggiorno di specie migratorie. Dopo il loro racconto, sono andata subito ad ammirare i luoghi descritti. La prima cosa che mi apparsa è stata questa immensa distesa verde, con intervalli di specchi d'acqua e profumi inebrianti di fiori selvatici. Raggiunto uno dei laghi costieri, lago di Caprolace, sono arrivata sulla duna che delimita il mare dal resto del territorio. Ho potuto constatare l'esistenza ancora di un fortino di guerra, documentazione dell'avvenuto sbarco degli americani su queste sponde. Proseguendo, dai punti più elevati delle dune, ho ammirato questa zona incontaminata, dove lo sguardo si perde nelle svariate sfumature di verde e nell'armonia dei volteggi degli uccelli che plenano gli acquitrini o si posano sulle scimmie degli eucaliptus. Durante il percorso ho trovato un'antichissima chisetta sconsacrata, restaurata di recente e quella parte della superficie recuperata della bonifica, in uso solo per le coltivazioni agricole. Oggi i miei nonni, con gli altri pochi abitanti, sono i veri tesorieri e custodi di questa riserva bellissima che tanto li ha impegnati nelle fatiche fisiche, ma che li ha rapiti con il cuore. Per sempre.